Tutti e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Focus Periferia, oggi è mercoledì 6 novembre e siamo qui in diretta come sempre con la consulta Periferia e Milano e con il suo presidente Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo 189esimo appuntamento di Focus Periferia. Allora Walter, questo 189esimo? Ah, settimana prossima facciamo il compleanno, 190, allora, perfetto. Chi è evoluto? Forteminde, vorrei dire, sono ben contento perché è anche un grandito ritorno, qui in studio con noi oggi. Allora abbiamo Fabiona Minoletti che è la vicepresidente del coordinamento Comitati Milanese e anche presidente del Comitato Abruzzi Piccini. Buongiorno Fabiola. Buongiorno, grazie, sono come sempre felice di essere qui con voi. Insomma, una di quelle realtà, il coordinamento dei Comitati Milanese che fa tanto in questa città. Eh sì, diciamo che è una realtà che ha una sua storia, nata negli anni 90, oltre 50 comitati di quartiere, sono realtà alcune strutturate, alcune più spontanee e che tocca però tutte le varie criticità, perché il focus principale è pronto quello della vivibilità e fruibilità degli spazi condivisi. Quindi si parte dalla sicurezza, alla cura degli spazi, alla riqualificazione, alla cura delle strade. Quindi diciamo che è veramente molto presente e fa più focus o più criticità della città. Bene. E noi gli vogliamo anche tanto bene al Comitato perché è quello stesso Comitato che ci ha dato il Palettone d'Oro nel 2022. Quindi insomma, siamo contenti anche per quello, gli vogliamo tanto bene anche per quello. Più che meritato. Ci sono interessi privati nati d'ufficio. Va bene, insomma, mettiamolo in questa maniera. Ma in particolare anche, c'è stata una circostanza proprio qualche giorno fa a Palazzo Isimbardi, sede della città metropolitana di Milano, dove c'è stato un convegno, diciamo così, di carattere europeo del progetto Spur e dove il tema era la rivitalizzazione delle periferie dopo il Covid, voci ed esperienze delle città europee. Ecco, dove è intervenuto anche Fabiola Miloletti su quello che era il tema delle buone pratiche. Allora voglio sapere, Fabiola, cosa hai raccontato? Quali sono queste buone pratiche che hai raccontato? Eh, allora, praticamente noi abbiamo fatto un po' il punto delle nostre attività, proprio con attività molto semplici, molto concrete, facilmente gestibili dai cittadini e facilmente replicabili con poche risorse economiche. Facilmente è un eufemismo o è realmente così? No, no, con la buona volontà sono facilmente replicabili. E, diciamo, sono delle buone pratiche che hanno come, diciamo, obiettivo la cura degli spazi condivisi. Perché è proprio dimostrato che se un cittadino vive in un contesto degradato, nel tempo il cittadino da un lato proprio si disinnamora del proprio territorio e si distacca e quindi può anche diventare lui stesso fautore di piccolo degrado urbano e, in secondo luogo, non esplica più il suo ruolo principale. il cittadino ha un ruolo di controllo spontaneo del territorio. Ah, interessante questo, quindi che, insomma, aiuta, no? Esatto, esatto. Dalla parte oppure, invece, disincentiva, invece... Da un lato lui stesso, magari, dice, butta la carta, butta il mozzicone di sigarette. Cosa succede? Che un quartiere... Interessante perché dà anche una certa responsabilità, appunto, a noi che viviamo in quartiere. Cioè, il degrado non è mai di qualcun altro, ma è forse anche, appunto, nostro. Esatto, siamo tutti in prima causa in questa situazione. E, oltretutto, quindi, il quartiere, cosa succede? Si degrada, si diventa sempre più brutto e diventa l'abitato ottimale sul quale poi, nel tempo, si possono anche consolidare altri illeciti. Insomma, allora è davvero come è che era la bellezza a salvere al mondo? Assolutamente. Ma davvero il concetto di brutto può portare a, poi, a avere altre situazioni illeciti? Sì, perché poi porta atti vandalici, può portare a situazioni che magari si creano delle microcriminalità locali. Questi sono proprio studi sociocriminologici che hanno dimostrato come l'evoluzione dei quartieri, il degrado, può evolvere. Per quello che, quindi, noi puntiamo molto su questi progetti di riqualificazione urbana. Piccoli progetti, perché noi puliamo i muri dalle scritte vandaliche, raccogliamo i mozziconi delle sigarette, puliamo i cartelli dalle affissioni abusive. Quindi sono degli interventi, facciamo la raccolta delle plastiche, quindi molto semplici, però che non necessitano di grandi risorse economiche e però danno, da un lato, una ricaduta di esempio di bellezza e dall'altro responsabilizzano il cittadino. Cioè noi vogliamo lanciare questa nuova cultura, una cultura del fare, in cui tutti possiamo dare con un piccolo gesto cura e bellezza ai nostri quartieri, alle nostre vie e alla nostra città. Quindi vogliamo diffondere questo con piccoli gesti. Ecco, questi gesti che appunto, tipo il cleaning, prima lo dicevamo, è iniziato l'idea di pulire i muri dei caseggiati, anche Aler, quindi insomma non solo... Quando è che avete iniziato? Allora, noi abbiamo iniziato nel 2005 in Via Labruzzi, dove abbiamo, con i cittadini, abbiamo cominciato a pulire alcuni manufatti, che erano luogo molto degradati, che erano luogo tra l'altro di prostituzione. Quindi abbiamo cominciato a lanciare un messaggio di cura. E poi nel 2008 è partito il primo progetto proprio di cleaning a livello nazionale di pulitura di una porzione di via con i cittadini, ed è in Via Labruzzi, dal civico 1 al civico 38, che quindi sono 38 stabili, sono oltre 200 tra vari manufatti, così che vengono presi in maniera continuativa tuttora il progetto attivo ed è anche utile come esperimento, perché ci dà dei dati utili sui giorni di criticità degli imbrattamenti, la ricostruzione dei componenti di una cru, e quindi ci dà anche un piccolo laboratorio sperimentale anche per capire come sta evolvendo il graffitismo vandalico in città. Ecco, interessante vedere come appunto... Allora, parliamo di progettualità e sappiamo che di progettualità ce ne sono una marea in questa città. Però poi rimangono progettualità. Qui in realtà qualcosina sistema è andato, ma non ha però fatto scuola, mi verrebbe da dire, no? Allora, lo diciamo sempre, a Milano c'è tutto, quindi progetti, sperimentazioni, buone pratiche... Manca giusto il mare, ci manca, come dice qualcuno. Ma di fondo è che ritorniamo sempre al vecchio, così diciamo, adagio, che i milanesi non conoscono Milano. Quindi non conoscendo Milano a livello generale, questo che cosa comporta? Che le cose positive che vengono fatte non vengono messe a sistema e quindi non diventano politiche generalizzate per la città. Quindi noi attenderemo i prossimi cent'anni, a Dio piacendo, che Fabio Laminoletti organizzi i suoi cleaning con il coordinamento dei comitati milanesi e arriveremo a pulire la città. Ma il tema esattamente è quello di passare alle politiche, cioè iniziative strutturate. C'era stata un'iniziativa promossa anche dall'allora sindaco Moratti di pulizia dei muri, con l'AMPSA, eccetera. Dopodiché la cosa è stata fatta ma non si è mantenuta nel tempo, ci si è affidati, si vede, a Fabio Laminoletti. Che capite che è un meccanismo... Che ne ha pulite tantissime, ragazzi, quante vi avete pulito fino ad oggi, più o meno? No, abbiamo fatto oltre 220 di pulizioni. Ma in una città con 4.000 vie, quante sono a Milano, più o meno? E poi il mantenimento. E poi quello. Allora, il tema è esattamente che c'è un metodo sul campo, sperimentato, che ha avuto anche le sue difficoltà, perché è la prima volta che Fabio Laminoletti, se rammento bene quello che mi aveva raccontato, è andata dal comune di Milano per farsi dare le autorizzazioni e il funzionario fa, ah, e con che cosa lo pulite? Ci hanno prestato un'idropulitrice e dove la mettete? Eh, la mettiamo sul marciapiede. Eh, ma avete pagato la tassa di occupazione del suolo pubblico. Ecco, per dire come i meccanismi che ci sono non diventano politiche e non diventano anche regole per favorire questo tipo di iniziative. Ecco, questo qui è il tema. Tante energie che sono sul campo, ma che sono poi sperse. Quindi c'è stato anche, abbiamo parlato di questo convegno europeo, dove il convegno europeo, diciamo che, ha avuto come sfondo il tema delle periferie e quindi anche le iniziative che sono state fatte sul Covid, ma il focus, avendo partecipato, ha avuto questo tipo di impressione. Le periferie non sono state approfondite. Sono rimaste, come sullo sfondo, un po' generico. Dopodiché, invece, sono state raccontate le testimonianze di iniziative che sono state fatte, eccetera. Ecco, qui abbiamo detto che quest'anno, in questa edizione, avremmo fatto un po' la pagella delle periferie. La pagella delle periferie, ecco, qui voglio un attimo citare una notizia che non è propriamente nuova, ma è un intervento di Gian Giacomo Schiavi, nella rubrica delle lettere del Corriere della Sera, e dove, del 2005, del dicembre 2005, quindi ormai sono passati vent'anni, dove alla fine che cosa diceva Schiavi? Ma c'è la necessità, e questo qui appunto nel 2005, ma c'è un progetto culturale, civile, politico sulle periferie da parte dei futuri candidati alla guida di Milano? Noi lo aspettiamo, diceva allora. Vent'anni fa. Sono passati vent'anni, se vogliamo richiamare anche quello che diceva agli inizi degli anni 2000, Renzo Piano fa il problema delle periferie, il problema dei prossimi trent'anni, ecco, diciamo che ce ne siamo già mangiati venticinque. Allora, questo qui è il tema di un'area cittadina che è l'80% del territorio e coinvolge i due terzi dei residenti periferie che sono una situazione piuttosto articolata, dove ci sono antichi borghi, pensiamo a Chiara Valle, che adesso si cercherà di farlo diventare patrimonio dell'umanità con l'UNESCO, e per dire una realtà molto significativa per quanto riguarda la periferia milanese, ma ci sono anche i nuovi quartieri, dove magari il coordinamento dei comitati milanesi fa l'iniziativa di cleaning nei quartieri popolari, diciamo che hanno 50, 70, 80 anni, per cui chiamiamoli nuovi da questo punto di vista, ma poi ci sono anche vaste aree agricole. Abbiamo imparato con l'Expo che Milano è la seconda comune agricola di Milano, d'Italia. E poi ci sono anche i parchi. Allora, questa realtà composita va anche gestita, altrimenti diventano discariche abusive. Ecco, di realtà composita, di diversità, è fatta appunto la nostra città, con una marea di quartieri. Quanti toponomi, più o meno, Walter, che tu lo ricordi bene? Sull'area periferica noi abbiamo conteggiati 166, un po' andando nel dettaglio. Senza contare il municipio 1, quindi 166 senza contare appunto la tua centrale. Milano, siamo meno confidenti sul municipio 1, comunque ne abbiamo mappati anche con Urban File, che fa un lavoro significativo di mappatura del territorio, di riconoscibilità del territorio, 239. Insomma, 239 quartierini, quartironi, quartieri, toponimi, cascine o non cascine, borghi ex borghi. In tutto questo appunto ci sono poi un'enormità di comitati invece, che fanno praticamente tutto di più, perché come fate appunto voi a coordinare tutto questo mare magnum di idee, anche di energie appunto, come diceva prima Walter? Eh sì, beh, diciamo che i comitati nascono laddove ci sono delle criticità in genere, perché nascono e a volte muoiono, a volte diciamo continuano il loro operato, ecco. Quindi dove nasce un comitato vuol dire che c'è sempre un problema, qualcosa è fallito, a livello delle istituzioni, insomma, comunque c'è un fallimento istituzionale o della tutela delle forze dell'ordine. Pertanto, come facciamo? Beh, noi lasciamo grande libertà di azione ai singoli comitati, perché loro, ognuno, deve esprimere il suo disagio e deve essere lui in primo a trovare delle eventuali proposte o delle soluzioni. E cerchiamo di dare invece voce al disagio e di mettere in rete dei gruppi di comitati che magari hanno le stesse criticità, quindi che magari condividono, anche se in ambiti territoriali diversi, però condividono lo stesso progetto, hanno la stessa tematica di problema, ecco. E di conseguenza questo aiuta perché c'è un confronto, ecco. Quindi questo è molto positivo, organizziamo incontri, anche con le istituzioni, con le forze dell'ordine, in base alla tematica, e questo è sicuramente molto importante. Ecco, e le iniziative sono di qualsiasi genere, immagino? Sì, sì, perché adesso... Perché poi parlavamo prima, c'è la periferia in una certa maniera, ma c'è la stessa periferia fatta in un'altra maniera, poi ci sono le periferie, c'è il quartiere centrale fatto in una maniera, ma il quartiere centrale fatto in un'altra maniera, c'è la zona agricola, c'è... Sì, diciamo che lo spaccato del territorio è veramente molto ampio e oltretutto in continua evoluzione, anche molto magmatico, soprattutto in questo ultimo decennio il territorio è cambiato tantissimo e di conseguenza anche le periferie sono cambiate tantissimo. E anche i comitati sono cambiati? Beh, sì, anche i comitati, anche il modo di fare... Non tanto il nome, quanto proprio come sono creati. No, 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 diciamo che anche il modo di fare il comitato, perché una volta magari il comitato si fermava alla protesta, un striscione, andava giù in piazza, invece no, adesso i comitati tendono ad essere più propositivi, quindi tendono o in prima persona a fare un qualcosa, oppure cercano magari di sensibilizzare sulla tematica o attraverso i media o attraverso delle assemblee aperte al pubblico in quella zona, insomma, quindi no, diciamo che... Poi cercando anche di proporre delle eventuali soluzioni, perché chi vive il territorio come un cittadino ha una visione molto più cappellare e di conseguenza anche una possibilità di soluzione ottimale, più vicina alla realtà, ecco. Allora, i milanesi non conoscono Milano, no? Come dice anche la nostra bag di Good Morning Milano, ma i comitati conoscono Milano e come fanno a conoscerla così bene Milano? Beh, perché il comitato è... E ognuno vive il suo spaccato, il suo quartiere, di conseguenza per forza uno conosce bene Milano, i comitati. E chi non li conosce come si fa appunto? Ma il tema è proprio questo, nel senso che abbiamo fatto il centenario degli antichi comuni milanesi, abbiamo fatto un centinaio di presentazioni, libri sulla storia che nessuno conosce, la storia di Milano non è conosciuta, cioè quella che va da il 1873, dove Milano era il centro storico, meno di nove chilometri quadrati, oggi siamo diventati con il 1923, e quindi 50 anni dopo, siamo diventati 181 chilometri quadrati, che è sostanzialmente la dimensione attuale, con qualche rimaneggiamento che c'è stato negli anni successivi. e lì abbiamo avuto la conferma di una evidenza che avevamo maturato. Ciascuno di noi conosce il proprio ambito territoriale, dove abita, dove lavora, dove va a scuola, dove ha qualche attività sportiva piuttosto che ludica, amici. E quindi questo ci porta a conoscere un pezzettino della città. Il restante 90% della città circa, questo ci sono stati anche degli studi, per cui all'incirca le proporzioni sono queste, al di là del centro poi, che è conosciuto, tutti quanti conosciamo Piazza Duomo, un po' meno con la chiesa, la cattedrale di Milano, un po' meno conoscono Chiaravalle milanese, piuttosto anche che la Certosa di Garegnano, dove tutti quanti ci passano vicini, ma che cos'è quella cosa lì? Ma nemmeno ce ne si preoccupa un pochettino, anche perché appunto questa storia non è insegnata a scuola. Quindi noi abbiamo questa situazione dove uno conosce la propria situazione e questo va bene se parliamo di baranzate, già di bollate. Grande meno di 3 km quadrati, poco più di un quartiere dei nostri, perché ha circa 12.000 abitanti, un nostro quartiere vale circa 12.000 abitanti. No, super gioco. In una metropoli, seppur piccola, Milano, è uno sguardo miope, perché vede il proprio contorno, ma poi la dimensione della città che ti fagocita è molto più ampia e articolata, è molto più vivace, con tutta una serie di interventi, pensiamo solamente agli interventi urbanistici nuovi che ci sono, che riguardano piccolissimi pezzi della città, significativi, ma piccolissimi pezzi della città. e sono affidati ai fondi di investimento, è un pochettino il ragionamento che anche architetti strutturati come Bota ormai è un certo tipo di considerazione che vanno facendo da anni. Allora, il tema è proprio che non si conosce la città. Questo per cui uno conosce il proprio spicchio di città, ma non conosce la città a livello generale. Proprio come singolo. Quindi può il coordinamento aiutarci a conoscere meglio la città, coordinando tutti questi piccoli spicchi che operano nel loro territorio? Sì, può farlo, ma non è così semplice. Anche perché, come dicevo, ad esempio... Io adoro il pragmatismo di Fabio Minoletti. Io adoro il suo pragmatismo, Minoletti. Perché si può fare... Ma è difficile, giustamente. Però non mi tiro indietro, perché è questo che mi piace. No, no, dico solo che, ad esempio, anche nelle periferie, prendiamo l'argomento case popolari, che sono... Eh no, esatto. Ogni casa popolare è un altro ambiente. Cioè, il territorio è molto frammentato e è molto cambiato proprio... Cioè, adesso nelle periferie case popolari abbiamo anche proprio un cambio, non solo generazionale, ma proprio anche un cambio di comunità diverse. E questo, chiaramente, crea dei problemi di differenze e delle problematiche di inclusioni. Se non c'è inclusione, è chiaro che il territorio si segmenterà sempre di più, ci si spezzerà sempre di più. Quindi, io non vedo, ad esempio, grandi progetti di inclusione. Io vado spesso nelle case popolari, sia MM, sia case popolari Aller. E lì, veramente, c'è un problema di comunità, di persone che non riescono e non sono incluse. Quindi, questo sarà un grosso problema che io vedo nel futuro della nostra città, delle nostre quartiere, tenendo poi presente che il concetto di periferia a Milano è molto diverso da un concetto delle balieux a Parigi. Cioè, le periferie a Milano sono un po' dappertutto, perché case popolari le abbiamo dall'estrema periferia, ma le abbiamo anche, banalmente, in centro, in via Fiamma, abbiamo caseggiati popolari. Cioè, quindi, il problema sarà, quindi, come riuscire a inserire queste realtà. Perché le case popolari, ora come ora, sono anche loro dei piccoli, non dico quartieri, ma sono dei piccoli spaccati con delle dinamiche veramente molto diverse e che anche lì bisognerebbe cominciare ad affrontarle seriamente per non creare, non solo che c'è una mancata conoscenza del territorio, ma c'è un disagio sociale notevole a breve tempo. Mancanza conoscenza, mancanza di cura, anche giusto? Di conseguenza, Walter, arriva a quello, anche, vero? E da cosa nasce cosa. Allora, proviamo però un attimino a... Fabiola ha affermato un concetto, no? Si dovrebbe fare, ma è problematico. Però la sua esperienza è che è problematico, ma si può fare. Quindi, dal punto di vista anche metodologico... Prima mi raccontava di contratti con AMSA, è utile, è utile. Io e te scappiremo, con Haller, no, io e te scappiremo. Vorrei un attimino ribaltare, invece loro lo ce l'ha fatto. Non perché lo ribalto io concettualmente, perché Fabiola, con l'iniziativa del cliente, che l'ha ribaltato già con il suo operato. Allora, torniamo un attimino al tema iniziale, la rivitalizzazione delle periferie. Perché esiste un problema proprio di un po', chiamiamolo così, autoreferenzialismo. Ciascuno fa la propria attività, il problema è che non si stratifica con le attività che fanno gli altri. Anche sul medesimo territorio, questo l'abbiamo visto quando ci furono più di dieci anni fa i fatti di Via Padova con l'uccisione di una persona, spuntarono tutta una serie di associazioni e comitati che già c'erano, ma non si parlavano assolutamente tra di loro. Pensiamo appunto a questo, la rivitalizzazione delle periferie dopo il Covid. Consulta Periferie Milano fece, alla fine del 2021, quindi in pieno Covid, è stato un periodo un po' problematico, ma un convegno europeo della rete Amateo. Che cos'è la rete Amateo? La rete Amateo raccoglie 57 organizzazioni nazionali o regionali, pensate, quella degli inglesi raccoglie 3000 associazioni. Che cosa fanno queste? Fanno attività culturali. Infatti il tema di quel convegno, di quella due giorni, fu la cultura europea rinasce dalle periferie. dopo due anni di lavoro, che queste 57 organizzazioni di 24 paesi avevano elaborato sia per quanto riguarda le periferie urbane, ma anche per quanto riguarda le periferie rurali. Perché sono due situazioni completamente diverse, che però devono avere una particolare attenzione. Se non si conosce, non si conoscono i termini della questione, poi non si capisce nemmeno come affrontarli. Allora, noi che abbiamo a Milano le periferie, da che cosa sono state caratterizzate? Sono state caratterizzate dal fatto che cento anni fa questi territori degli undici comuni famosi avevano il loro sindaco, la loro amministrazione, che poi ha sparito e è andato tutto sul centro. E quindi parlavamo di cura. Mentre prima c'era il sindaco di Baggio, piuttosto che Niguarda, qual era la priorità del centro della sua cura? Eh, Baggio e Niguarda. E' chiaro che adesso dal punto di vista strutturale, chiunque sia il sindaco che sta a Palazzo Marino, qual è l'oggetto della sua cura? E comincia da lì a vedere. Quindi c'è un problema, le periferie hanno due caratteristiche fondamentali a livello mondiale, che sono, uno, la mancanza di identità, che non è propriamente vero per Milano, perché non è stata costruita Milano per estensione, ma per aggregazioni di tessuti con mille anni di storia. Figino e Treno, tanto per intendere, hanno celebrato nel 2017 i mille anni di storia documentata. Quindi sicuramente hanno un'identità che però bisogna anche un po' rinnovare e rinvigorire. In secondo luogo, la mancanza di un'amministrazione adeguata. E' chiaro, cento anni fa è stato tolto il comune e l'amministrazione addirittura non ce l'hai. Allora, questi qui sono i termini al quale bisogna rispondere. Allora, facciamo nel 2001 questo convegno. 21. No, nel 2021, scusa, questo convegno a Matteo. Allora, sempre anche patrocinato dalle città metropolitane tra le altre cose. Ecco, rimaniamo però un pochettino sfasati. Allora, qual è la proposta? Da lì sono nate poi le giornate per i Ferriartmi, per cui abbiamo fatto 601 appuntamenti, il prossimo 15-17 novembre, grazie a 48 associazioni, per far proprio conoscere il territorio attraverso i beni artistici, architettonici, paesaggistici e museali. evidenzi una cosa. Allora, abbiamo strutturato a livello cittadino con il Tavolo Periferie Milano che è composto da varie organizzazioni, coordinamento comitati milanesi, consulta periferie milano, Confcommercio, il Centro Sportivo Italiano e quant'altro. Abbiamo detto un po' da qualche anno e adesso abbiamo sviluppato un'iniziativa articolata che è il percorso periferia policentrica. Perché noi possiamo avere una città e una periferia policentrica se abbiamo anche una sedimentazione policentrica, non perché nascono dei funghi ogni tanto. Allora abbiamo avviato un percorso mettendo a fattore comune quelle che sono da studi, iniziative, magari anche a livello nazionale. Per esempio, l'ultimo che abbiamo fatto appunto a giugno è stata la presentazione del progetto Cities di Confcommercio. Il progetto Cities di Confcommercio, per cui hanno fatto anche mille pagine di documentazioni, va messo a fattore comune e utilizzato da tutti, altrimenti diventa un libro che va in biblioteca e rimane lì. Quale sarà il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è di martedì 12 novembre a Palazzo Marino perché il tema è quello di mettere insieme istituzioni centrali, istituzioni territoriali, associazionismo cittadino, associazionismo territoriale, perché dialoghi insieme, come ha detto anche il presidente di Fondazione Cari Polazzone, bisogna parlarsi di più istituzioni, imprenditori, eccetera. Questo qui è un ambito che per certi aspetti fa parlare queste cose, fa parlare queste cose mettendo a fattore comune i lavori che vengono fatti, si parlava prima di Conosce la città, il 12 saranno presentati i lavori della Fondazione Perini che appunto sul tema Periferie Urbane Trincee di Legalità che si è svolto nel corso degli anni e ogni anno per ciascun municipio è stata fatta una documentazione urbanistica, storica, geografica, sociale, anche con tutti i problemi di legalità che ci sono e quindi circa 300 pagine ogni libro è uno strumento che noi diciamo è essenziale per chiunque vuole lavorare sul territorio sia a livello cittadino ma anche a livello territoriale. e quindi verrà presentato questo tipo di lavoro per poi favorire presentazioni sul territorio ma con una visione cittadina per cui visione cittadina e articolazione territoriale proprio per favorire l'espressione territoriale di tanti che sono impegnati ma come vediamo molto spesso sono e lo denunciano anche loro ma siamo scollegati ecco allora il tema è il collegamento istituzionale cittadino e questo qui è il percorso periferia policentrica che è un lavoro certosino ma grazie alla partecipazione di sia persone del consiglio comunale sia dei municipi sia delle associazioni territoriali cittadini pensiamo che possa essere un'utile risposta perfetto allora siamo arrivati in conclusione abbiamo detto appunto periferia art.me un terzo weekend di ogni mese giusto 15-17 novembre ci sarà il calendario ok Fabi qualche attività di cui vuoi dirci e poi anche le coordinate per invece seguire il coordinamento dei comitati allora diciamo che stiamo molto lavorando in questo momento anche sul tema del graffittismo vandalico abbiamo abbiamo partecipato a un convegno a porte chiuse proprio su questo tema su come contrastarlo e stiamo quindi coinvolgendo anche tipo la procura le forze dell'ordine e soprattutto abbiamo una rete internazionale con vari attori quindi locali e stranieri per fare una rete a proposito di reti quindi questa è una bellissima iniziativa e sarà l'iniziativa di questo inverno e poi con la primavera iniziamo i nostri clienti complimenti anche per aver aggiunto appunto anche discernere bene tra graffiti e graffiti vandalici invece perché è importante questo e soprattutto non si danno più scuse a quel punto poi abbiamo fatto una bella divisione abbiamo capito cosa è giusto e cosa no adesso contrastiamo quello che non è giusto assolutamente poi dicevi primavera e niente poi in primavera ripartiamo con le nostre iniziative sul territorio quindi di cura concreta sul territorio quindi continuiamo il progetto delle case popolari di riqualificazione coinvolgendo i comitati degli inquilini soprattutto per il mantenimento perfetto allora grazie mille ancora di essere qui con noi porto i saluti a tutto il comitato a tutto il coordinamento dei comitati di quartiere di Milano grazie grazie a voi di aver dato anche voce alle nostre iniziative veramente Walter grazie a te noi ci vediamo settimana prossima con la centonovantesima puntata andiamo a fare una torta o qualcosa del genere sicuramente vedremo ci organizziamo c'è il colesterone due biscottini due biscottini due crack due gallette di riso va bene facciamo così dai grazie mille Walter Cherubini consulta Periferi Milano grazie anche a voi che ci avete seguito da casa noi ci vediamo come sempre tutte le mattine dalle 7 alle 9 qui in diretta su Good Morning Milano e anche su Crystal Radio grazie mille arrivederci e a presto grazie mille